Per il terzo giorno consecutivo le squadre del soccorso alpino e speleologico cercano Giorgio Lanciotti, il 35enne di Peneto, che nella giornata di sabato si era avventurato in solitaria verso il Corno Grande. Ieri pomeriggio le operazioni erano state sospese a causa della fitta nebbia che aveva reso impossibile qualsiasi intervento costringendo gli elicotteri a rimanere a terra. Nonostante ciò le squadre di volontari e i vigili del fuoco hanno continuato a perlustrare la zona fino al calare della luce, purtroppo senza successo. Via terra si sono mosse anche le squadre composte da oltre 30 operatori. A coordinare l'intervento è stato il posto di comando avanzato allestito sul piazzale dei Prati di Tipo, in un furgone dei vigili del fuoco a bordo del quale ha operato personale esperto in topografia applicata al soccorso. Lanciotti era stato visto l'ultima volta mentre pranzava al rifugio Franchetti. La sua auto è stata trovata parcheggiata nei pressi di Cima Alta, suggerendo che avesse preso una via alternativa per salire fino alla Madonnina. Dopo l'avvistamento al rifugio Franchetti nessuno l'ha più visto. L'unica prova del suo arrivo in vetta è il video da lui pubblicato sui social. Le squadre di soccorso continuano a lavorare instancabilmente nella speranza di portare il giovane a casa sano e salvo. La famiglia e gli amici di Giorgio sono tutti con il fiato sospeso, nella speranza che le ricerche possano concludersi il prima possibile con una notizia positiva.